E' un secondo piatto che può essere realizzato sia con i calamari che con i totani. Taglio le pinne a metà, i tentacoli a pezzetti e la sacca invece a rondelle. Condisco con pochissimo sale, aggiungo un po' di pepe e un filo di olio di oliva. Metto insieme anche i pomodorini tagliati a metà e mescolo tutto. Taglio grossolanamente un panino morbido, lo metto nel boccale di un mixer e vado a tritarlo insieme all'aglio e al prezzemolo, fino ad ottenere una mollica ben sgranata e soffice. Vado ad aggiungerla poco a poco sui calamari e sui pomodori, mescolando per distribuirla bene. Cuocerò i calamari al forno in una teglia antiaderente. Metto anche i pomodorini qua e là, un po' di olive nere. E cospargo con altra mollica. Bagno il tutto con un filo di olio in superficie e metto in forno già caldo a 190 gradi in modalità ventilata.